Tv6 Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di Tv6 Una bassa pressione situata sul medio basso adriatico pian piano si muove verso est però apporterà ancora dei fenomeni sulle regioni adriatiche e anche aria un po' più fredda proveniente dai Balcani Nei prossimi giorni una breve ripresa dell'alta pressione a seguire altre perturbazioni atlantiche che potrebbero riportare le piogge soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche Per quanto riguarda questo giovedì in Abruzzo è una giornata decisamente più stabile più soleggiata praticamente ovunque qualche nuvoletta quella durante il pomeriggio in Appennino ma non ci aspettiamo fenomeni annessi il vento ancora protagonista nelle ore mattutine specie sul vastese la costa tetina, il pescarese ma raffiche di tramontana e di mestrale che tenderanno gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata le temperature in lieve aumento con massime tra 10 e 13 gradi e minime tra 1 e 6 gradi quindi parliamo di temperature invernali, clima piuttosto freddo anche in pieno giorno con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento